Andiamo a vedere anche se ci sta questo. Se lo sbocco qua o a me? Devo passare un po' l'ampi? O non te ne frega un cazzo? Anche perché non so come si fa, è quello il problema, non ho trovato il cazzo nel bottone. E' che senza occhiati da qui sono non persi. Adesso? Scusi a cosa? Pertanto il corpo? Tá Scusi Can Grazie. Grazie. Grazie.